Buongiorno a giornate, oggi non ci sono i stream, spero che nessuno volesse seguire la correzione con tutti i stream, perché hanno detto la mia. Forse nel frattempo, qui ho preso alcuni di questi perché la volta scorsa mi ricordo almeno lei che l'ha rimasta senza, tre, quattro me ne ho chiesti là vicino alle gare, non so se serve per la loro attività, passatele chi le vuole, c'è una richiesta dietro, una qua, quelle che ci sono, allora, cominciamo a me intanto la correzione, perché sopra non c'è un altro problema, anche il gesto c'è, dai, i buoni vecchi metodi non sovescono mai, ecco, qualcosa sembra emettere da profondo, allora, esercizio 1, l'esercizio 1 aveva varie soluzioni, io vi dico quella che avevo pensato io, e poi vediamo che, anche se non ho corretto nulla, le volte lavorate, però, però ho visto questo, questo progetto altre soluzioni, allora, come l'avevo pensato prima? come l'avevo pensato prima? se non porterà mettere i due sottilssono e дор i pressioni purpurazioni, e quindi che cred fola ok, questo praticamente quello è quello e tre code tre code chiamate buff praticamente l'ha risolto come aveva risolto quello dei torsisti alla stazione l'aveva fatto quello dei torsisti alla stazione quindi la write come l'ha fatta index uguale count che è un int poi avevo una funzione a un cast che è un count avevo una enter shuffle di tre a seconda del filo quindi come fa book out book out uguale book out più uno per cento tre if n eh va di book out punto nlm maggiore di max quindi intanto con le tre cose maggiore uguale a max ok ok to write book out punto o enter a questo punto eh back book out c'è se va bene è lo stesso c'è book out no ho fatto bene qua meno punto index non cap index ok index punto ad lm e ok to write index punto signal la considerate read read co fa index uguale a shuffle di R counter poi co lo faccio R counter uguale R counter 1 per 100 max per 100 3 if ma di index punto nlm non uguale 0 ok to read index punto wait poi tmp uguale map di index punto get e poi ok to write index punto signal 0 3 paralleli poi ciclicamente vedete index è contro man mano che si mettono in fila double counter però quando arriva in 3 non è 0 cambia 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 cosa quindi index quindi mette il primo nella quota 0 il secondo nella quota 1 il terzo nella quota 2 poi 0 1 2 0 2 2 ah quando devo apprendere lui incontri R counter 0 1 2 0 2 ma questo fa la prenotazione quindi quando dico che l'index shuffle di R counter primo è 3 2 1 3 2 1 3 2 1 oppure 3 1 2 3 1 2 ok e a questo punto prende dal buffer dalla coda opportuna e libera sulla quota opportuna ok libera ah perché i processi continuano dopo a mettersi in coda nelle wade anche si i produttori si mettano una coda di weight opportuna si sia il produttore che il consumatore si mettono dell'alto la di weight corretta secondo la sequenza si si di l'alto di max per parte il index punto n che è la funzione che vi dà l'alto del buffer del numero di elementi siccome sono i mette dentro ciclicamente per avere tra gocchie max ci viene che avete tre code max ok in realtà probabilmente c'è anche l'abito di affrettazione devo guardare se funziona mi pare che ci possa essere anche una soluzione basata su due condition ma sbloccate la condition solo quando siete arrivati a livello 3 e allora sbloccando nell'ordine giusto riuscite a tirarli fuori era più facile sul 3 2 1 era più difficile sul 3 1 2 questo meccanismo ok questo era l'esercizio 1 facciamo le certifiche 2 scusate quindi era fattibile anche senza utilizzare una coda per salvare i due elementi 2 e 2 ma salvandoli in un vettore di due elementi e poi dopo quando arrivava il terzo dopo aver fatto la signal di richiamare la write la procedura di write per con come argomento i due elementi del vettore in cui ho osservato in quei non puoi entrare in corsione sulle proceduretiche le proceduretiche fate entrare in corsione perché ovviamente blocchereste tutto se do un monico chiedetevi rientrare nel monico non è possibile ok andiamo a vedere l'esercizio 3 esercizio 3 esistevano due versioni una una con server e una senza server era volutamente incrociato l'esercizio che aveva 3 2 1 e quindi poteva mettere anche meglio la soluzione con un solo con un solo condition aveva quella con server quella senza server è più facile mentre invece il 3 1 2 quell'altra allora messo in fase senza server con square non hanno grandi difficoltà di vera asset messaggio a destinazione eccolo qua è una n per server messaggio a destinazione senza server i sim sender while msg uguale but get fresh send è diverso da nulla è sbagliato quello sopra non manda solo questo manda message e scout più più and scout test più più e questo me lo posso permettere perché mettete c'era l'asterista ma mettete può essere l'asterista destinazione ma quindi no get feed e messaggio quindi mando questa perna al destinatario quindi a poco che mi aveva messaggio metto il messaggio il contatore un po' come fa TCP quando vuole ordinare messaggi che si firma il contatore counter send mst uguale mf xif send dov'è se send è un asterisco è un asterisco ma tutto altro counter send mess dove get question vi restituisce il messaggio se un in più dell'ultimo counter ricevuto da quel intent se no aspetta perché prima o poi arriverà ok quindi continua a ciclare riceve un messaggio lo mette nel batter riceve un messaggio se per caso ricevesse quello tre numeri dopo l'ultimo valido ricevuto lo lascia nel buffer vuol dire che dopo riceverà il secondo quando arriva il primo lo restituisce quando farà la rite non farà neanche la rite dopo non farà neanche la mf e la rite perché lavorate nel buffer e poi lavorate dopo lavorate nel buffer con server allora con server c'è una piccola cosa da notare no c'è un commento alla fine farà il return del messaggio sì certamente allora il return e il message per il server c'è un pensiero a fare come si fa quando c'è il server per mandare un messaggio lo si manda al server opportunamente con l'aggiunta di varie cose che ci servono per ricevere mandiamo un messaggio al server che vogliamo ricevere e poi aspettiamo il messaggio dal server il risultato pratico qual è? che un un processo dal server riceverà un messaggio alla volta cioè per ogni messaggio che invia sono in ricezione ne riceve uno quindi che la comunicazione con il server sia non fa e fu non ci importa niente perché io dico sono in ricezione può arrivare prima o dopo altri messaggi inviati ma ad un certo punto arriverà sono in ricezione e a quel punto il server mi manderà un messaggio e fino a quando non è non è arrivato io non posso mandare un altro sono in ricezione e quindi quel canale di ritorno sia fa sia non fa non ci interessa nulla perché c'è solo un messaggio in attesa alla volta e ora non ci sono tanti ordini per un singoletto quindi andiamo a vedere la a send la solita quella è la nf send nf send nf send s count nest 2 2 ci potrebbe anche rinforzare rest qua perché scauto più più get people sd rest finalmente mess a serve cosa devo mandare il contettore per mettere l'ordine il mio nome un'attacca che dice sto mandando la destinazione del santo invece la rs come fa nf nf send cosa manda posso mettere anche guy scout più giusto per dove teniamo questo teniamo get feed receive c'è un tag da chi e ovviamente per tenere il formato di lasciare tutto il messaggio al server e a questo punto faccio un messaggio uguale nf save return messaggio come fate il server che sarà come fate why you don't know a m c sd tak t messaggio uguale nf receive asterisco if tag uguale uguale sd ma punto altro c send msg msg uguale va get fresh di cosa di send a P ok come parto parto MF send P MSG e waiting P uguale false else se volete il tag uguale sempre è l'altro caso if MSG uguale alpha punto get fresh stavolta now first step P P second first step P second press second P rest nulla nulla and F send 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 F second P F send send message else wait wait pp oh allora come funziona arriva un messaggio è un send lo metto questo è l'else di questo è un è una richiesta di spegnere un messaggio e mette il messaggio nel buffer se il destinatario è già in attesa di questo messaggio e se il messaggio è proprio quello fresco quello n più 1 rispetto a concedente lo ha il destinatario e dico che il destinatario non è in attesa se invece è un messaggio di accensione dico c'è già il messaggio fresco per il destinatario se si mando il messaggio se no dichiaro che il destinatario è in attesa ok l'ultimo esercizio praticamente quella quella immaginata cosa faceva faceva in modo che tutte le volte si multiplicasse per il valore e non si potesse mai andare sotto livello 1 quindi e era richiesta la five forness era richiesta la ah è qua era richiesta la five forness per i processi bloccati quindi se un processo aveva valore aveva un valore calciore di 1 e veniva data come parangolo 2 rispettava la mia variante e non si procurava quindi una soluzione potrebbe essere t implementata come mull 0.5 v implementata come mull 2 e init n implementata come mull 2 ok quindi se inizializzate un semaforo a 0 vuol dire che inizialmente mettete 1 poi se fate una v il valore del semaforo deve mettere a 2 4 8 16 poi fate delle p 4 2 quando arrivate a 1 facendo v per 0.5 tenereste invalidare l'invariante e quindi non rispettando le variante si deve fermare a questo punto se potete fare più p tutte non rispetteranno le variante si metteranno un po' da pipe come da specifica nel momento che fate la v consentite al primo da 1 lo portate a 2 consentite al primo di completare l'operazione moltiplicando per 2 perché da 1 lo portate a 2 il primo in coda fa per 0.5 lo riporta a 1 e la produttoria rimane a 0.4 1 scusi preoccuparsi con quello che riguarda la v di eventuali problematiche di overflow era fuori luogo se può dire che è più facile che vada in overflow ma anche l'intero ma in overflow ragazzi se avete un semaforo che è un intero dopo 4 miliardi e sono 3 tipo e mezzo vai 9 e 4 anche lui ok per l' overflow non ci sono problemi perché l'invariante non permette di ridurre i valori prego ovviamente ovviamente è equivalente fare per 0.1 e per 10 ovviamente vai 9 per prima sì ovviamente sì uno che voleva essere molto conservativo poteva fare per 1.1 e diviso per 1 fratto 1.1 che non so quanto faccia ok comunque è totalmente equivalente per farla questa è la metà del gioco perché questo può vedere che si deve fare la p e la v adesso può fare un altro grande gioco per far vedere che facciamo la mula con la p e la v come si fa class mass double valo uguale a 1 più è una coda 8 float segma mula x adesso è un senato e quindi posso termo che spunto t if valo per x meno e 1 segma uguale nu segma 0 più punto and più x segma multe punto v segma punto p e free segma e quindi queste cose blocca se il valore per ciò che passiamo per il parametro tende a invalidare l'invariante io vi registro in una coda sia la con il parametro sia un semaforo nuovo su cui mi blocco altrimenti se non a questo potremmo spare val per uguale a v per uguale a x guardate poi while not più punto ent cioè se c'è qualcuno che aspetta per no non faccio nulla and mal per più punto and mal che sarà la funzione che prende il primo elemento della coda è maggiore o uguale cioè guardi prima della coda se lo applicassi ora diventerebbe l'invariante se si sem all x uguale più punto di più quindi se si può bloccare lo togliamo dalla coda val uguale val per uguale all x quindi a questo punto siccome lo sblocchiamo cambiamo il valore del semacolo lo sblocchiamo e mutex v che è dentro la graffa dell'els qui abbiamo sblocchato qua il mutex nell'els lo sblocchiamo qua ok questo era il compito ok commenti va bene allora la mezola se vieni mostri collabolo o per sblocchiamo che no voglio dire che l'unico modo che non so riuscire a farlo di uscurare adesso solo a l'occhio quindi è un po' un po' diciamo ah ad accetta però si no no comunque è come avere l'acqua 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 sono stato preparatissimo per questa presentazione ieri pomeriggio che mi ha chiesto di farla comunque allora due scopi uno è ripresentarvi il tipico workflow lo creo in inglese scusate se passassimo in inglese è proprio guai perché andranno tutti molto meglio no però comunque devo fare pratica come vuoi tu se no ogni tanto mi sboccherò però mi sboccherò o se no metti la frase in inglese quindi il tipico workflow che userete per lavorare sul progetto quindi tipicamente un sistema di build basato su me o cosa 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 si vedate la fase il solito ciclo edit con file cycle è più l'instrumento di buggy che sarebbe micrame rPS la macchina visuale stessa uno o due quindi per esempio i prequisiti prima non so quanto siete già conoscendo quanta pratica avete con quei strumenti di sviluppo che dovrete usare un progetto comunque il primo il primo per lo sviluppo beh in teoria è in teoria no però in pratica è un compilatore no gcc che sarà un cross compiler no io consiglio di usare quello consigliato sulle vecchie uniche pagine micrame ps o installarlo dai pacchetti mi sembra che ci sono o compilarlo usando semplici opzioni a configurare e istruirlo a creare cross compiler mix a seconda della macchina usare quello sarebbe la lezione prossima intanto è partito lo streaming qua la mattina la combattere volentamente non so se era più interessato riscaldamento lo streaming era questo qua se qualcuno voglia giocare può anche provare a usare un gcc più recente però non è semplice ci sono dei due che facilitano la costruzione del cross in valore stesso cross tour si chiamano il progetto hai provato quelli direttamente dalla distribuzione perché ad esempio Debian ha in distribuzione il compilatore già un paio di di solito negli anni passati ho usato anche quello se esiste bene così stai bene ok va bene quindi supponiamo di avere quello installato e di avere il nostro piccolo progetto di caro chetizio io qui ho ok quindi di avere un insieme di moduli soggettici ok quindi abbiamo abbiamo un po' di c per esempio qui è che ovviamente era è un modulo della funzione questo immagino potete deciclarlo questo è questo che potremmo girare sulla macchina visuale per il sistema di di così è il fatto a capello lo suo fatto con tre so si ok di solito le funzioni analoge alle funzioni quali omoni devo dire ci non è una convenzione credo abbiamo un prefisso ok però comunque già ci sono potrebbe potrebbe salire lo tempo credo che infatti ho detto già non so quanto ci avete già lavorato quanto no però ogni tanto a qualcuno confonde questa programmatica però non vedete una libreria una libreria standard libsi non existe ovunque si ha però per il sistema per te over do che quindi o vi creare le vostre funcione a vzare creare tu zare o co nem si ti a famiglia e o in alternativa esistono 10 più agili, lightweight, che è possibile compilare, cross compilare per il vostro target, però non so quanto ne vale la pena, è un processo. Non provate a compilare la G-Lipsy, ci mettereste più tempo a fare quello che resta, ma non avete neanche bisogno della Lipsy, è ovvio che non è una cosa astrazione didattica, quando ho compilato il kernel di Linux, il kernel di Linux non ha la Lipsy a disposizione, anche come diceva Tomislop, la memcopy piuttosto che la memcompare o la stringcopy o la printf, la printf non esiste proprio nel kernel di Linux, ma è memcopy, ma è una funzione che è in un file sorgente lì, compilato con il kernel, perché è comodo. Per questo ho pensato di Linux, perché ogni tanto c'è qualcuno che diceva, ma la printf non funziona, perché non fa parte del linguaggio, non fa parte del runtime, il runtime proprio non esiste. è stato anche parte della scelta di kernel-lecci, perché avremmo fare un linguaggio per kernel, tutta questa parte era un sovrappiù peso che si portava addosso e non serviva, scusate, kernel. Ok, quindi abbiamo questo modulo Casio e abbiamo un modulo da driver, ok, che è chiaro questa funzione, con dei dati random. esiste un sito web, mi hanno detto random bytes, ok, pronti qui un D-Tour. Più o meno è l'analogo a, credo, come funzionerà il vostro progetto, voi svilupperete una serie di API, per dire, uno scheduler, di moduli, ok, gestione, e ci sarà un, mi credo che sei sbaglio, ci sarà un driver che vi sarà dato che testerà, per funzionalità. Più uno test. Driver per dire, un unit test, diciamo, ok, insieme di unit test. Ok, quindi, è un po' un'analogo di questo. Se l'avessi scritto io, come carattere, vi avessi scritto, è Quick Brown Fox, Johnson with a lazy dog. Ho fatto tutta la lettera di un... di sequenza. Ok. Ok, quindi abbiamo questi modulo di fronti. Mi ha detto di vuota. Ok, io ho creato un make file pronto, se l'ho eseguito, che vi mostro. Magari prima di eseguire un comando make, vi mostro un po' i vari strumenti eseguiti a mano, così vedete cosa avete bisogno. Quindi, va bene. La prima cosa, ovviamente, è compilare il modulo. Qui eseguavamo anche il compilatore. su... Ok, KSort. Ok. Quello che dicevo è KSort, che è un oggetto, che è un oggetto ELF. Quindi, come siamo, come siamo, come siamo, come siamo a platforma linus? Wow. E, verità, è una platforma linus, va bene. Va bene, quindi nel vostro main file avrete chiaramente le invocazioni o il nome parametrizzate e così via, però ecco non so come pronuncia, eseguiamo anche l'altro. Ok, abbiamo tutti i modi e proviamo l'interno in un eseguibile con PEL, che è quello che è la luce. Ok, questo qua lo mostro, qui c'è un problema, abbiamo bisogno di un runtime, che non esiste. Questo, questo momento, perché non l'ho specificato, quindi per questo motivo, Microsoft MS distribuisce due oggetti, due moduli, due runtime. Uno per il vostro kernel, ovviamente l'unico che userete, che dovrete sviluppare anche la componente UserLend, il sistema. Ok, va bene, qui mi fermo con l'utilizzo di strumenti a mano e vi mostro il main file. Il runtime è il push che mettete attorno, con la funzione start, che lì vi vedete manca, che chiama il main, perché i vostri moduli, anche se hanno una funzione che si chiama main, non hanno un endpoint per l'esecuzione, la sicuramente è stata, e l'edice non c'è giustamente. E l'altra cosa che fa, diciamo, questo runtime ambiente è mettere, indicare chiaramente quali sono gli indirizzi da cui deve partire il codice, gli indirizzi da cui devono partire i dati e così via. Sì, in verità sono due componenti separati, c'è un runtime e c'è un'altra, sì, anche, ugualmente importante, senza quello non funziona, Sì, sono link e script che definiscono il layout della vostra immagine, sia il kernel, sia eseguibile, che probabilmente non verano, scusate però. Ok, questo qua è il MyFat, che è scritto in una maniera un po' più cura, cioè, per un progettino del genere no, se avete un progetto, dipende da quanto, da quanto ampia siete, da quanto il vostro progetto crescerà, però vi conviene, vi conviene di adottare o creare a mano, di adottare un build system decente. Cose come, dipende sui tracking, quindi, tracking, ok, generazione automatica di due MyFat in base a moduli, anche se la moduli ha, non è difficile, ma potete, tra l'altro momento, non so, dipendere dal MyFat in base a usare un'altra open system, se vi piace. Il MyFat ha usato le funzioni automatiche, da ridefinendo qual è il compilatore e qual è il link, quindi senza dover, vi ricordate che nel MyFat abbiamo visto che si poteva compattare. Infatti, qui, vabbè, definisco un paio di variabili di a mano, e poi l'altra definizione si basa in un'opera, perché la distribuzione di Micro EPS viene installata, come tutti gli altri pacchetti del mondo UNIX, su una parte, su un modo del file system, ma un prefix, cosiddetto, in generale, auto-tools, mentre sarà USR Vocal, poi USR in caso di pacchetti di distribuzione e veri e propri. Ok, quindi, abbiamo dove iniziano le cose interessanti. Sì, vi consiglio di non utilizzare ottimizzazioni per vari motivi, però. In ogni caso, non ha molti vantaggi, ottimizzazioni, lo più alto, cioè, lo più alto, di zero. Ok, qui, LWP contiene un'opzione di archiva al linker, in meno di specifica il linker script da usare. Ok, in questo caso, il nome del script è eos32lpsvip.h, spiego per cosa stanno i componenti, le varie componenti del nome. Ci sono due, 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 famiglie, usiamo degli script diversi. Una è per il vostro, per il vostro kernel, per l'immagine, e, ok, lo schercherà, per casa in memoria. E questo qua è, e questo qua è, questo fisco, UMPs core, X, la prima parte del nome denota, parte, la prima parte del nome denota, little or big end, lente nella stella macchina per usare. quindi, in caso di una mark of little endian, kernel, il nome del linker script, il linker script giusto, è eos32lpsvip.h, quindi, nulla di queste cose. Ok, va bene, objekti sono oggetti che, che componono il nostro, il nostro eseguibile, sempre eseguibile eos, il oggetto eos finale, quindi sono i due moduli compilati, il runtime, come abbiamo detto, è più un altro, un altro, un altro, semplicemente un, semplicemente un, è sempre un oggetto, chiamato, un mps o, è, sempre distribuito, in parte, micro mps, e, questo qua, non lo utilizziamo nemmeno, in questo, in questo, in questo demo, contiene, delle funzioni, che facilisano, l'accesso, l'accesso a, aspetti, architetturali, da una macchina, che, altrimenti, sarebbero difficile, 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 da, da un linguaggio di pronunzione, da un livello, come c, quindi, accesso a registri, del coprocessore, get, et cetera, e, più delle altre, di utilità, che, vedete proprio, ok, ok, quello che, quello che, creiamo, infine, no, il nostro, obiettivo finale, è un, è un, un altro, chiamato, kernel, quote, back to the case, e questo qua, è un, è un formato, interno a, maicni che, se, non vi serve, sapere il formato, vero proprio, del file, poi, è un formato che, il simulatore, il simulatore, a, a, inizial, put, power, power, di una macchina, carica in memoria, la ram, a, a, giusto, quello là, il file, kernel, core, micro ps, viene, creato, da, una, una, eseguibile, che in verità fa più cose crea i vari file ROM che esistono in Microsoft uno di questi è appunto il cosiddetto file core core sta per memoria RAM in questo caso ok è tutto quindi qua la fase più lunga è fatta mi trovo a scudere me c'era solo l'ultima componente da fare ok non lo so se ti è caricato quello giusto perché anche se è fallita ha generato ha generato un camera ha generato però secondo me l'ha generato in completo perché ma ecco c'è ecco ora sono un piccolo ok sì ok due ah sì ok veniamo un po' ok c'è tutto l'unico l'unico l'interesse qua ma no logia però c'è c'è un file c'è un file c'è un file gemello che è can't stop like I can't guess stop sta per symbol table che viene creato come effetto quadrato della creazione di kernel core è un altro formato interno che contiene la lista dei simboli quindi oggetti funzioni dalla tabella dei simboli proveniente dal file dalle sgreeb l'elf quello vi aiuta nella fase di debugging altrimenti dovreste dovreste indovinare o sapere sapere l'address base del vostro dei vostri programmi a memoria ok quindi abbiamo tutto quello che ci serve però non sappiamo usarlo ok quindi qua c'è un gioco super consumatore uno o due quale partiamo dal due così facciamo venire una volta di usare ok quindi ok prefisso dovete chiuso è una è una mia cosa interna ok la nuova versione del simulatore per chi ha usato per chi ha usato Microsoft Microsoft saprà che l'utilizzo cioè l'input all'emulatore è definito da tramite dei file di configurazione lo chiamava file di configurazione UMPSRC i file name che per i vari componenti quindi per i vari componenti dell'input dello simulatore ad esempio il file che non può è un input no è un parametro della nostra macchina attuale della versione 1 questi erano questi erano definiti in questi file di configurazione e lo look up di questi file era in base al alla directory 40 cioè alla directory da dove il simulatore era lanciato quindi era un programma di era un programma common line quasi in forma di un'applicazione desktop quindi Microsoft S2 dall'altra parte si comporta indipendente da dove viene lanciato quindi volevo specificare questa cosa perché lo lancio da qua però non ha nessuna differenza ok si comporta come posso chiusi l'applicazione ok se non cresce ok va bene ok questo qua è la prima schermata del simulatore come ci dice non 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 stiamo non abbiamo interpretato nessuna macchina cioè configurazione di una macchina quindi per per far girare il nostro il nostro dobbiamo prima creare la macchina che per fortuna non è un processo molto difficile quindi ok create a machine vado qua che è lanciato da convenienza lanciato da qua quindi devo scelgo un nome qualsiasi come la configurazione la configurazione della macchina è un analogo di un progetto eclipse o un progetto di un tipico sistema di sviluppo ID ok quindi scelgo un nome arbitrario adesso per convenzione dentro una una un spesso ok ok quindi adesso abbiamo la ripetizione in una macchina se tutto va bene possiamo mettere in esibizione questa intanto come come vediamo le varie i vari aspetti da l'interfaccia questo qua è semplicemente un breve riassunto della macchina che è stata caricata cos'è bad di hardware questi due richiedono spiegazioni forse è il momento cominciamo da questi ok questo qua questo qua questo qua era qua non per per un motivo il nome che andiamo attiviso al hardcore quindi all'immagine all'immagine del del che carichiamo il fatto che il fatto che è una macchina che è una semplice macchina che ho appena creato il nome che è nel core è una convenzione è semplicemente una convenzione in ogni caso è sempre possibile cambiarlo questo qua è un semplice modo di è un default che era una convenzione già in macchina quindi è un po' come quando compilate un kernel che si chiama vmlinux o vzimage tutti sappiamo che è l'immagine andiamo a cercare la convenzione ok però come detto è sempre possibile cambiare ogni aspetto della macchina parte di una di operazione le componenti hardware questo però era visto si è un tego il device che per ora non vediamo però qui andrebbe a definire l'est ok però lasciatemi sospeso questi qua ok in momento non ti direi parola ok questi due questi due hard-on-off sono ok potete pensare anche a loro come una specie di runtime della vostra macchina BIOS per chi conosce il concetto sono delle funzionalità di basso livello di base che faccio una vita del programmatore del sistema operativo MIPS come architettura è molto semplice non definisce non definisce molto affatto per quanto riguarda ad esempio la gestione delle eccezioni il concetto di eccezione comprende tutto quello che segnala un evento particolare dell'esecuzione successore interrupt errori e così via MIPS come architettura definisce che a un documento d'accezione certi registri del processore vengono modificati di venire appropriata e l'esecuzione il programma interviene caricato con una prepissata locazione della memoria non esistono cose come i vector interrupt dell'architettura e i sottoseglie quindi quindi per facilitare la vita Markless è un quello che chiama execution rom handler che è una specie di dispatch di eccezioni di vario tipo sempre in base a certe convenzioni convenzioni in questo caso firmware software per non dire hardware software perché sono delle condizioni di bias a sistema operativo ok basta l'altra parte è una macchina ISC quindi andare a scaldire un vettore di eccezione è difficile farlo in acqua quindi fa proprio il minimo indispensabile e se voi volete qualcosa di più si mette una ROM come abbiamo fatto che vi dà i servizi che vi serve ok quindi si va bene ok non diremo nulla quindi questo siamo interessati a far girare il nostro programma il nostro questo quindi l'obiettivo cosa sarebbe non so dovrebbe funzionare la fincina però supponiamo di avere un bug e supponiamo di voler vedere di voler vedere cose tipo dire al stimolatore bloccati ogni volta che qualsiasi elemento del vettore che stiamo ordinando venga modificato quindi il suo suonano e così via ok quindi per questo motivo esistono i vari strumenti di debugging la macchina la tecnologia non è molto allineata con il resto del mondo però esistono i breakwind che sono l'analogo il 100% dei breakwind di debugger i suspect che sono sono dei pensate pensate come dei watch points sarebbero nomi perché familiari con altri sono dei punti sono delle portazioni di memoria che sulle quadri sulle quali volete volete fermare l'esecuzione sia su accessi di lettura sia di scrittura o entrambi mentre i breakwood sono del codice mettete vi fermate se l'esecuzione con un account arriva su un indirizzo i suspect sono indirizzi dati e voi fermate l'esecuzione se durante l'esecuzione viene a seconda come lo mettete acceduto modificato quella quella locazione di memoria ok in più in più possiamo avere delle aree di memoria contigue bisogna monitorare il tempo reale quasi trace point è un nome abbastanza comune per esempio ok allora siccome siccome non avete a disposizione un ambiente di debugging simbolico questi strumenti sono utilissimi ad esempio i suspect in combinazione con una visuale dalla memoria e il trace sono utilissimi anche più dei breakwood direi appunto perché non avete un ambiente di di quindi sì se ho una struttura di dati complessa sarà comunque difficile visualizzare il contenuto non ho la visuale comodissima dei debugger dove cliccando dimostra il layout della mia struttura struttura c dimostrato in una rea e così via però comunque in collaborazione con col simulatore da programmatori che in collaborazione potete crearvi dei strumenti di debugger molto potenti ad esempio potreste potreste avere delle funzioni di stampa sofisticate delle vostre printf che risultano comodissime appunto perché potete potete scrivere sulle aree di memoria memoria che definite degli oggetti data e istruire il simulatore a fermarsi su degli eventi speciali esempio banalissimo potete potete avere un stop point un suspect generico per chiedere int fermati cosa del genere istruire 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 ogni volta che la locazione viene scritta in più potreste avere un buffer che in combinazione con le vostre funzioni di stampa sofisticate usate per visualizzare l'evento di interesse facendo ciò potete simulare benissimo le funzionalità di introspezione di dati presenti nei debugger di giorni ok va bene finalmente ok 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 quindi questo l'abbiamo visto andiamo facciamo una scansione breve dei vari visuali dei vari componenti della macchina della finestra principale e poi andiamo a vedere qui vedete varie cose che non hanno un processo la ragione è che questo programma è ancora in gruppo non è entrato in fase di containment quindi queste cose sono dei dati che si richiamano appunto per facilitare la realtà quindi non è non badate infatti ok quindi già che ci siamo i breakwinter sono sono le locazioni di memoria che in accesso modalità esecuzione quindi runcounter sono solo le quali più bloccate micro ps1 vi lasciava definire dei range di memoria come breakwinter per ora ho tolto questa funzionalità perché non 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 mi risultava molto molto utile non so ma le qualità di modificare la gestione si con gli altri sospetti si uno si blocca su o un'istruzione particolare o in probabilmente nella maggior parte dei casi sulla entry point della funzione quindi non ha senso avere ok in ogni caso potete potete inserire dei point e abilitarvi e disabilitarli a loro nel senso durante il di averlo abilitato per un tempo però poi comincia a darmi fastidio posso disabilitare un notaggio che non devo togliere e andare a inserire per inserire un'istruzione esiste apposita finesse del dialogo al greco ok anche ok sembra ci sono non so quanto sono conoscente con per ora sarà quello starter per tutti che lo conosceremo più avanti nell'ambiente di memoria se fai scroll e se basso vedono che ci sono le funzioni del codice esatto allora però dovrebbero essere odiate un po' sì per come allora che so ok allora ok quindi la funzionalità che userete probabilmente sempre a meno che andate a sottobagare parte del del BIOS del ROM così del genere appunto sono a verità soluzionale o è proprio la vostra funzione ok siamo quindi ci siamo ok ok questo è il memoria ok ci fermiamo qui per un tempo quindi vabbè dimostro questo e poi torniamo al questo qua è una visuale dello stato dei vari device sulla macchina per quanto è utile dipende dipende se state scrivendo dei device driver così è utilissimo altrimenti è una componente musica ok memoria quindi l'obiettivo era di vedere se la nostra funzione funzionava quindi sempre allora sono interessato a vedere quel mio array che avevo definito qua ramp bytes ok vogliamo quella di memoria vogliamo quella di memoria attualizzata ok è l'unico oggetto l'unico oggetto data dell'intero di che abbiamo creato selezioniamo ecco qua siamo reti potenti no? si vediamo ok vediamo l'esecuzione quindi vediamo ok aggiungiamo un subject ok per default l'intero oggetto che avete seleccionato che è quello che mi interessa insomma non perché per l'altro di iniziare non avevo aglutato il suspect dell'unico parma però ok comunque avete visto la array che si è risultata in modalità sleep land per essere ordinata domande è chiaro come funziona avete la macchina di quella dell'esecuzione e vedete che la array è stata ordinata aspetto vediamo per confronto velocemente la stessa cosa con un like anche assurdo si non lo so tre secondi per stare delle altre finestre le altre finestre di interesse sono determinabili 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 inizio ad aspettare le parole per chi più una finestre che potrebbe essere di di ruolo da cosa stanno facendo è questa e sono i dettagli di quello che sta prezionando il processore il tablet dove c'è ma se noi lo eseghiamo da qui vediamo che scorre la freccia sì 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 puoi fare single slapping sì anche i breakpoint contesto del genere sì come un debugger normale ok va bene allora ok sto lasciando sono sicuro di ricevere le parole ok no diciamo così Grazie. Ok, modifica il fatto di conversione per seguirli. Questo qua per... Sì, uno degli obiettivi della versione 2 è di facilitare la bug, l'esecuzione di programmi paralleli, quindi programmi su più processori. Sì, sono un'unica, non sono processore, quindi la finestra di fot, la finestra del processore, tra i ridici. La maggior parte di quelle cose che sono presenti nella processore window della versione logica. Ok. C'è un po' questa pienezca parte, perché la maggior parte della funzionalità che abbiamo visto nei due tali di prima, che riguardano i suspect e breakfast. Grazie. Ok. Grazie. 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 per non fare sono stato più ok ok posso sbagliare ok abbiamo più o meno quello che abbiamo visto prima vediamo come funziona non dovrebbe essere riscrizioni dovremo prima fermarci e poi ogni volta in scrittura sulla re perché mi ha aggiunto un'intera funzione la differenza è che questo mostro sempre l'ordine non è il video allora vedete notate che per fare l'alt si fa una sua istruzione salta se 0 uguale a 0 quindi sempre avete in mente che mi rischio non ha istruzioni particolari salta se il registro 0 è uguale al registro 0 ma il registro 0 contiene sempre 0 4 ma quando un'istruzione è in esecuzione il program counter è appunto all'istruzione successiva che è 4 byte dopo quindi quello è un loop su singola istruzione è un che è il modo che ha per fare alt infatti vedete che è tutto fermo tranne il tempo che scorre inesorabilmente come sono sentite allora questi sono gli strumenti li avete visti entrambi anche se ci sarà un po' più di fatica per usare la versione 2 perché è più nuova e sicuramente richiederà un attimo più di pazienza sulle vacche però poi come avete visto il beneficio che vi dà di comodità nell'utilizzo è alto quindi io vi lascio tutte e due a vostra disposizione e per l'esecuzione per il progetto fase 1 sono interscambiabili il codice che va sull'uno va sull'altro però vi invito a usare la versione 2 a collaborare con Tomislot per quello che possono essere bug report o consigli di funzionalità fate come se fosse l'autore di un pacchetto che trovate a disposizione quindi noi potete usarli tutte e due adesso per fase 1 per il progetto potete usarli tutte e due almeno per fase 1 fase 2 chi vorrà fare la parte multiprocessore ovviamente è l'unica che funziona micro mips non è un'architettura tanto strana da una settimana a casa mia ho una bellissima macchina mips che gestisce tutti i ricevitori satellitari un 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 box non so chi lo conosce che ha 4 ricevitori 2 satellitari 2 satellitari terrestri e mi ridistribuisce via rete tutto per la casa e quindi se più persone vogliono vedere canali i sintonizzatori si organizzano per distribuire il carico e un solo sintonizzatore è in grado di far vedere molteplici canali purché siano sullo stesso mux è molto divertente però per scrivere codice uso mips lenox tutti si quindi quindi non è una cosa così strana ultima cosa del corso ci ho pensato e ho pensato di farvi un regalo di Natale il regalo di Natale che ho pensato di farvi è di consentirvi di partecipare alle prove di gennaio e febbraio come prove parziali di concorrenza per quest'anno accademico quindi addirittura dal 7 diventano 9 le possibilità che avete di passare un esercizio di concorrenza unica cosa lo dico per gli studenti in debito d'esame devono decidere ci sarà una casellina al momento della prova se quella è la prova di appello quinto e sesto appello del 2009 2010 o è un parziale del 2010 2011 non posso contemporaneamente dire vale per questo e per quello è l'unico vincolo che pongo ok e però mettiamo mettiamo siccome non vorrei trovarmi la corsa a rialzo e a correggere compiti impresentabili mettiamo il vincolo di punteggio cioè il gravemente insufficiente lo mettiamo che da ma se vedete la correzione sapete se avete fatto bene o male lo decinate se mettere annullare la prova o no ok vi è piaciuto il regalo dovevo venire con il banco bianco forse interessa anche voi il ritiro sia durante la prova che dopo lo successivo alla correzione comporta perdite assolutamente no se uno dice non valutare non valutare lo tengo da parte non lo guardo nemmeno mi serve solo avere il compito di non valutare perché nessuno possa dire che ho perso il compito e per avere però se uno dice è una giornata storta non valuta perché se no ci sono avevo perché sono state fatte queste cose non sono cattiveri perché c'erano studenti che tentavano la via dello sfinimento del docente e presentavano dei compiti veramente impresentabili e si presentavano ogni appello ogni appello ogni appello la giornata non lo capisco il fatto di non aver capito bene un argomento e doverlo ripassare lo capisco il fatto di non studiare il tubo e venire non lo posso accettare quindi se uno dice non valutare non succede nulla ma l'importante è che almeno uno si renda conto se il compito è sensato o meno se non arriva neanche a quello altro voglio chiedere per ottenere invece la micro mps2 lo metterà il pacchetto nel suo sito appena possibile sarà chiedo scusa che non so chi è un attimo finisco la lezione 5 minuti ciao luco fabriano finiamo di dire questa cosa per avere il codice verrà rilasciato anche quello con con pacchetto regalo per l'azione uno prossimamente entro a giorni verrà rilasciato e verrà rilasciato sicuramente il tarzio z diretta si metterò solo la cominciosa secondo me adesso c'è un post-mai pubblico di più il tarzio dell'età adesso qualcuno vuole risultare la pacchetta di solo fare il pacchetto ora non non c'è il molto che mi ha un numero che dice no adesso però è facilmente no se qualcuno vuole rifare i pacchetti per la distribuzione ovviamente le mettiamo a disposizione e mettiamo i credit a chi l'ha fatto in passato ci sono stati diversi post-studenti che hanno fatto anche i post- per macOS o per altri ok vedete voi ogni con la manuzione è sempre buona scelta scelta le vacanze cominciate a pensare a questo è grazie grazie